e non si è meronghevile a papire e a buare a senza e me li ha e amo se io non ho le due bonghe e a niamina coruabisi un scuola nero dico vato a le che i caro chiabo se vi caro vittori viavo tambe se a me ha gaccio le bonghe e a niamina dico vava a se li aveva ghiambi coruase cauti e a niamina avui carano a se bonghe io cuoia omo emnescolente ovo sva vava a se li coruase bonghe quando vare che scoge bonghe io morai vava liava la vanga se bonghe io voi gole omo em si è voi odia a bongichora george abuga we don't understand why the interest that our security team in niamina has on the mess of the county assembly which is a property of the house of the assembly No. 2, noi, come l'Assemblea, non abbiamo riportato il missingo della messa. E anche se abbiamo riportato, non è l'Assemblea che dovrebbe andare a guardare la messa. Si dovrebbe andare all'albero a guardare la messa, anche se abbiamo riportato. Quindi siamo riportati che si trovano la messa, che è un simbolo molto grande dell'autorità della casa. E non sappiamo dove vogliono prendere la messa. Impostati che i membri della polizia si potrebbero intimidare i membri dell'Assemblea dell'Assemblea. L'Assemblea è indipendente. E nessuno dovrebbe arrivare a intimidare i membri dell'Assemblea dell'Assemblea. La major role è l'Oversight e legislazione. Quindi non sappiamo perché questi ragazzi sono arrivati qui chiedendo per la messa. La messa è la propria dell'Assemblea. La messa è la lassità non sappiamo nei membri dell'Assemble. La messa è la dallaサmズ fringe della scuola della polizia. L'Assemble all' DC za il seguito dell'Assemblea. Inopa la polizia della costumilia fuficazia delle cari che ogni appare l'Assemblea. mesi lazima ikue kwa assembly na hatuwezi kubali itoke kwa assembly yenda kuingine polisi utumia bunduki nazizi tumechaguli wa viongozi tunatumia mesi kwanye shangufu ambawa na inji wame tupea wakome wazigurudi tena kujukua na hatuto wapea na hatuto kubali wa siha dimawa wakome adhigenta nakobachira androba isato babuate plan yo go koire mes mesi utara tanga saga nesilete mesi eto noire nebi asalambi andetaka waida de atat day noba aingega baruching agito andetako de petias assembly ikawo soko ake na ndre ero batu kuli emes we don't understand nga mesi kiba kuli eko ntio mesi eti assembly noire go asso wengia in teba kono suspect ando ndo kwenya kubatu magu wakome che stanno spostando il tempo, siamo in controllo, l'Assemblione è in controllo, non ci sono i nostri amici, non ci sono i nostri amici.